buongiorno a tutti non ci sono grandi cose da dire in questo momento ho letto la notizia della della prematura scomparsa di Ema Motorsport Emanule Sabatino la giornata non è partita bene perché ora magari potrà sembrare esagerato la mia reazione però davvero io lo seguivo vedevi sui video per chi come me ama i motori lui era l'espressione massima della competenza in materia motoristica cioè avevo una dialettica che riusciva a far capire a chiunque cosa fosse il motore come funzionasse meccanica eccezionale soprattutto mi rimane in mente come lui si esprimeva nel raccontare quelle che erano i motori la passione che ci metteva nel raccontare quello che era il suo mondo il nostro mondo di chi come me ama i motori scomparire a 45 anni lasciare una moglie e tre figli insomma tanta roba tanta tanta roba ovviamente non sto a dilungarmi molte non sto a a capire il perché il per come non sono cose che mi riguardano era semplicemente questo video per omaggiare una persona che comunque anche per quel piccolo canale che è il mio mi ha dato modo anche di voler iniziare questa piccola avventura e in alcuni casi ho preso anche spunto dai suoi video per raccontare quelli che poi erano le vicende del mio camper e i vari argomenti e nulla e questo è quello che siamo insomma siamo di passaggio se potrà servire a qualcosa volevo fare le condoglianze alla famiglia ai familiari insomma dare un abbraccio ai figli insomma ciao e ma